Come ritrovare il materiale di lingua letteratura italiana nel sito della scuola? La procedura è molto semplice ed è molto diversa dagli anni precedenti perché questa volta caricherò il materiale su una cartella creata ad hoc dalla scuola per la tua classe. Vediamo brevemente come si accede a questa cartella. Il passo fondamentale è collegarsi al sito della scuola www.cms.liceomedisenigallia.it e in corrispondenza in alto a destra della stringa fatti riconoscere digitare username e password username a067 password bedollo. A questo punto dopo aver digitato username e password cliccare su accedi. In alto comparirà AGR067, qui cliccare cartella personale e troverete subito il materiale di lingua letteratura italiana perché è l'unico ad essere stato caricato. Dopodiché il funzionamento è analogo agli anni scorsi, non cambia nulla. Come uscire, è qui un esempio di come scaricare il materiale. A questo punto dopo aver scaricato il materiale voglio uscire dal sito, voglio fare il logout. Cancello la cronologia innanzitutto come illustrato nel video poi ritorno su fatti riconoscere e clicco sulla dicitura esci logout e così sarò fuori.